A microfinito Provercelli.com Cristiano Scazzola, oggi la primavera ha superato il turno della Team Cup 5-1 alla Spezia, un risultato che dici tutto? Sì, un risultato anche se sembra eclatante, però penso una vittoria meritata dove i ragazzi hanno fatto molto bene e ci siamo qualificati passando il turno contro una squadra comunque forse anche un po' più vecchia della nostra quindi è una bella soddisfazione Adesso sabato il derby con il Novare? Sì, sabato sarà un pochettino più dura perché già tre anni che fanno la primavera sono un po' più grandi di noi però come sarà il nostro obiettivo, insomma cercare di migliorare sempre, di farne il nostro meglio e più avanti si andrà più miglioreranno questi ragazzi per toglierci qualche soddisfazione anche contro le squadre un po' più grandino Grazie Cristiano Scazzola